Attraverso l'arte, attraverso l'interpretazione della moto, della velocità, si cercano di lanciare dei messaggi molto importanti che vanno sicuramente sulla sicurezza stradale, ma anche al rispetto degli altri, anche al rispetto dei doveri e sono tutti mezzi per cercare di far capire ai nostri giovani come l'uso della motocicletta sia una cosa bellissima ma che deve essere effettuato nel rispetto di alcune norme che rendono il viaggiare in motocicletta sicuro oltre che piacevole. Mi sono reso conto sempre più dell'involgarimento del contesto sociale, della mancanza di etica professionale e di educazione. Questo rapportato alla strada, io viaggio tanto per lavoro, ha fatto sì di creare un qualcosa che potesse divertire i ragazzi con un percorso formativo nel quale noi andiamo in tutte le scuole dal prossimo anno in Italia a raccontare un mio credo a livello esistenziale accompagnato dalle istituzioni.